Mite come una colomba, astuto come un serpente. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, si definisce così sul palco della festa democratica di Sant'Agata Militello e chiarisce subito di non aver paura di nessun lupo. Ed il resto, il grande assente della convention organizzata da PD e Megafono è proprio il segretario regionale, rimasto a Palermo, dirà poi l'onorevole Laccoto, per problemi congressuali, ma in realtà assente perché contrario ad una festa democratica organizzata insieme al Megafono. Ma se mancano Lupo e Cracolici, accanto a Crocetta, oltre il fedelissimo Lumia, c'è Davide Faraone, di ritorno da Bari dove Matteo Renzi ha aperto la campagna per la segreteria del PD e c'è Laccoto, segno e provvidenti di un'alleanza tra Megafono e Renziani che potrebbe far saltare lo status quo del centrosinistra in Sicilia. Il governatore attacca il PD a viso aperto dai mancati inviti in direzione ai continui diktat sui rimpasti in giunta. Che cosa rimprovera il Partito Democratico al mio governo? La peggior opposizione degli ultimi 40 anni la stanno facendo proprio a me, tuona Crocetta. Perché mi parlano dai giornali e non mi trattano la dirigente del PD? Non accetta ultimatum Crocetta che elenca quanto fatto finora dal suo governo e rivendica la sua azione rivoluzionaria e riformatrice che dalla formazione all'ambiente ha toccato poteri e personaggi forti. Trasferimmo dall'assessorato territorio e ambiente anche il cognato di Leanza. Cioè non è che Leanza poi è venuto a fiatare. Però capite bene, di cognate ne avevano trasferiti e poi non è che gli abbiamo tagliato la testa e è andata lavorando in un'altra parte. Il presidente non accetta nessuna ipotesi di scioglimento del megafono. Non si può pensare di salire sul carro di Crocetta, ha detto, dopo averne ostacolato in ogni modo la candidatura e l'elezione. Mi dicono che i siciliani sono contro di me ma poi escono e mi chiedono l'autografo. Se il lupo è in grado di sciogliere il megafono lo faccia lui. Insomma, la festa è finita, gli amici se ne vanno, ma pare proprio che oltre l'oasi di unità di Sant'Agata Militello ci sia un deserto e divisioni difficile da superare.